Muoversi. Infomobilità in Campania. In apertura vi anticipo che sulla 3 Napoli-Salerno in fascia oraria 22.6, da domani, domenica 1 marzo e sino a venerdì 7, per lavori è chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. Suo raccordo autostradale di Avellino per lavori è attivo il restringimento di carreggiata sino a venerdì 13 marzo tra gli svincoli a Tripalda e Serino in direzione Fisciano. A Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Torino in programma questa sera allo Stadio San Paolo per favorire il deflusso del pubblico a fine gara sulla linea 2 della metropolitana sono istituite corse straordinarie. Prolungamento di servizio anche per le linee cumana e circunflegrea. In chiusura vi ricordo che come ogni sabato la linea 1 della metropolitana effettua l'ultima corsa da Piscinola all'1.04 e da Garibaldi all'1.32 mentre la funicolare centrale effettua l'ultima corsa alle 2 di notte. Da Acamir Muoversi in Campania, Nunzia Canfora. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania